Il Pionta e il PNRR, un'occasione perduta, dicono dal Centro Basaglia, associazione che è memoria storica dei tetti rossi di Arezzo, del manicomio e della sua chiusura. Il Pionta era la cittadella dei matti, tra poco sarà quella della sanità. 40 anni non sono stati sufficienti a trasformare quest'area verde contigua al centro cittadino in un simbolo di una nuova cultura. All'indomani della chiusura del manicomio era stata imboccata la strada giusta, dice la presidente Tina Chiarini. Un Poi, nel disinteresse generale, a causa di una profonda involuzione politica, culturale e sociale, questo parco è stato abbandonato a se stesso. La ASL, continua la presidente Tina Chiarini, ha presentato i progetti per i nuovi stabili che arriveranno, grazie anche al PNRR, al posto dei ruderi a imminente rischio caduta. Ma il Pionta sarà solo una cittadella della sanità e non della salute, quindi inclusiva di problemi sociali della popolazione. Mancano strutture polivalenti, ovvero di aggregazione giovanile come antidoto alle solitudini, all'esplosione delle tossicodipendenze evidenziate dal CERD. E poi si progetta il ritorno della salute mentale proprio al Pionta, che fu casa del manicomio poi chiuso. Anche se il centro Basaglia sembra rifarsela più con una mancata progettazione istituzionale e quindi non con la ASL Tukur, è proprio il direttore generale di quest'ultima a rispondere a Tina Chiarini, gettando acqua sul fuoco e spezzando una lancia a favore degli altri partners istituzionali. Prima di attaccare il progetto complessivo del Pionta, dice il DG, aspettiamo di vedere il lavoro di provincia e comune di Arezzo e anche dell'università. Noi abbiamo fatto la nostra parte che ovviamente riguarda quello che ci compete, cioè la sanità. Siamo parte del percorso della salute ma lì altri attori stanno lavorando. Attendiamo, prima di alzare i toni, i progetti di comune, provincia e università sul Pionta per capire, conclude Edurso, se siano o meno concepiti in modo armonico agli interventi sanitari dell'ASL.